Buongiorno signorina, senta mi sono preso, dovrei cercare un ufficio informazioni. Buongiorno, siete nel posto giusto? Cosa posso fare per voi? Senta signorina, non ho molto tempo da perdere, ma quei cani del comune mi hanno detto di rivolgermi qui per cercare di sistemare una questione sulla mia polizza assicurativa. Certo, la sua pratica mi è risolta. Ci sarebbe fermare un modulo. Un modulo? Ma sono le due a meno un quarto, io devo andare a lavoro. Abbia pazienza, ci vuole solo un attimo. E va bene, va bene.